Buongiorno dalla redazione web della città di Torino e bentrovati a questa prima edizione dei nostri due appuntamenti quotidiani con le notizie dal web della città. Vi ricordo che questa edizione è disponibile in diretta sul canale YouStream della città di Torino e indifferita a partire dalle 10 sul canale YouTube all'indirizzo youtube.com slash you Torino. Iniziamo come di consueto la nostra rassegna di notizie con la viabilità e ci colleghiamo con Walter Gerbi dalla centrale operativa del Corpo di Polizia Municipale. A te Walter. Le notizie di oggi in collegamento con la centrale operativa del Comando di Polizia Municipale di Torino. Buon giovedì 5 giugno le notizie di oggi. In corso 4 novembre nella carreggiata laterale tra via Vernassa e Corso Sebastopoli lavori edili. Divieto di transito in via Palestrina tra via Sciatillon e Corso Vercelli per smontaggio gru. Rallentamenti in strada Sabaudia tra Corso Moncalieri e piazza Freguglia a tratti, lavori e anche rallentamenti su via Balestrieli, angolo via Catanzaro per contosmat. Nella notte prossima dalle 1 alle 3 la conseda chiusura sotto passo Lanza, Corso Massimo d'Azzeglio per operazioni e pulizia meccanizzata. Semafori in manutenzione in piazza Giacomini e Corso Inghilterra, angolo via Cavalli. Le altre notizie. Da oggi a sabato 7 giugno presso il parasporto olimpico, campionati europei di ginnastica ritmica. Orari oggi dalle 10 alle 13 e 35. Alle 10 cerimonia il diciannovesimo anniversario della fondazione dell'arma dei carabinieri presso la caserma Cernaia. Alle 19 in Corso Vercelli 15 consiglio di circoscrizione del quartiere 7 Aurora Vanchiglia, Padora del Pione. Dalle 14 e 30 alle 19 e 30 in piazza Castello manifestazione sportiva lo sport al centro per gli alunni delle scuole elementari torinesi. saranno allestiti i campi di basket, pallavolo e calcetto. Dalle 9 alle 17 e 30 nell'area del museo A come ambiente, tra Corso Umbria e via Livorno e nella piazza del centro commerciale d'ora una serie di iniziative nell'ambito della giornata mondiale dell'ambiente. Alle 20 e 30 processione parrocchia Beate Vergine delle Grazie, la Largo Cassini per via Polo, Corso dei Gas per via Piazzi, via Fratelli Carli, via Largo Cassini, dove si terrà la Santa Messa conclusiva. È tutto, buon viaggio. Bene Walter, ti ringrazio delle tue notizie. Vi ricordo che le notizie di viabilità sono disponibili all'indirizzo internet che vedete in sovrimpressione nella sezione ultimo minuto. Inoltre è possibile ricevere gratuitamente ogni giorno nella propria casella di posta elettronica queste notizie e sul sito che vedete indicato trovate le modalità di iscrizione. Bene, andiamo a vedere allora il tempo che oggi in città sembra migliorare leggermente rispetto agli ultimi giorni. Vedete la rilevazione del meteo Fonte Arpa Piemonte delle ore 8 di questa mattina. Ci dà un cielo coperto, una temperatura intorno ai 16 gradi e mezzo e un'umidità ancora molto alta dell'85%. Tutto questo per il momento non fa presagire per il resto della giornata precipitazioni. Vedete che abbiamo cielo coperto da qui sino alla notte nella speranza che appunto ci risparmi un po' di pioggia. Andiamo a vedere allora gli appuntamenti istituzionali di oggi in città. Ne abbiamo selezionati alcuni soprattutto per quanto riguarda la mattina. È cominciata da poco, dovrebbe essere cominciata da poco a Palazzo Civico nella sala dell'orologio la riunione della sesta commissione consigliare presieduta da Vincenzo Cugusi che ha all'ordine del giorno il riferimento all'entrata in funzione in tutte le circoscrizioni delle macchine spazzatrici Swippy Jet. Tra poco alle 9.30 all'Università di Torino a Palazzo Nuovo nell'aula multimediale Guido Quazza il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castronovo partecipa al convegno la Popular Music nell'Università Italiana. Cose fatte e cose da fare. Alle 10.30 alla caserma Cernaia di via Cernaia 23 il presidente del consiglio comunale Giuseppe Castronovo partecipa alla celebrazione del 194esimo anno di fondazione dell'arma dei carabinieri. Alle ore 11 a Palazzo Civico nella sala Capigruppo è di scena il diritto di tribuna con una petizione popolare al consiglio comunale con oggetto ricollocazione dell'impianto AMIAT di Corso Moncalieri. Alle 12 presso la col di reti Piemonte di piazza San Carlo a 197 l'assessore Domenico Mangone partecipa alla conferenza stampa compra locale mangia locale a Torino una domenica ecologica a chilometri zero. Vedremo poi più avanti nel giornale alcune informazioni in più su questa domenica ecologica. Sempre alle 12 infine al Castello del Valentino nel Salone d'Onore gli assessori Alfieri, Levi e Viano intervengono alla presentazione del congresso mondiale di architettura. Visti gli appuntamenti istituzionali potremo andare a vedere quali sono stati i temi che hanno caratterizzato l'edizione di Torino Click attualmente online pubblicata ieri sera intorno alle 20. Vi ricordo che trovate l'edizione di Torino Click a partire dalla home page del sito della città e all'indirizzo comune Torino Hit Torino Click che vedete in sovrimpressione. Dicevamo di questa edizione attualmente in linea di Torino Click. Sono molti gli spunti interessanti. Uno riguarda ad esempio il piano esecutivo del traffico per l'area centrale che nella giunta di ieri ha visto dare il via ad una serie di provvedimenti che riguardano sostanzialmente più aree pedonalizzate nel centro città con un incremento di circa 6.700 metri quadrati di questo tipo di aree, piste ciclabili e nuovi tratti di corsie riservate per i mezzi pubblici. Questi cambiamenti saranno progressivi e sperimentali e sostanzialmente verrà pedonalizzato un tratto di via Mendola tra via Arcivescovado e via Frola, verrà ripristinato il divieto di sosta in via Roma con aree di carico e scarico delle merci su entrambi i lati, verranno installate delle rastrelliere per motociclette e biciclette nelle traverse di via Roma e in piazza CLN, verranno realizzate nuove piste ciclabili che attraverseranno il centro da est a ovest nelle vie Arcivescovado e Cavour, Giolitti, Principio Amedeo e Verdi e in via Po verrà istituita una corsia riservata al transito dei mezzi pubblici. Tutto questo ovviamente porterà con sé una riduzione degli spazi di sosta in superficie che saranno però compensati da quelli nei parcheggi interrati. Vi segnalo poi nell'ambito della rassegna classica di Torino Click su Torino Capitale Mondiale del Design, la mostra Coffee Roots che sarà inaugurata oggi sotto i portici di Piazza San Carlo, fa parte integrante di questo calendario ed è un reportage dai paesi arabi e dal Medio Oriente con tema centrale il caffè. Andiamo scorrendo l'edizione di Torino Click, un altro articolo interessante parla del Valentino come museo verde a cielo aperto e riguarda il progetto di riqualificazione complessiva del parco in vista del 2011, è stato illustrato ieri con una grande dovizia di dettagli dal coordinatore della divisione ambiente Gabriele Bovo ed è a cura dell'architetto Fontana già artefice della rinascita dei Giardini Reali e di Villa della Regina. Infine ancora due piccole segnalazioni che riguardano il fiume per eccellenza della città, il Po. I Murazzi è stato istituito ieri nella riunione di giunta il consorzio Murazzi del Po, società consortile a responsabilità limitata, questa società che non avrà fini di lucro svolgerà una serie di attività di promozione commerciale, turistica e culturale della zona dei Murazzi, quindi potrà organizzare eventi culturali, artistici, fiere, mostre, manifestazioni, offrire servizi come noleggio di biciclette e imbarcazioni. La città parteciperà a questa società consortile con una quota di 10.000 euro pari al 50% del capitale sociale che ammonta a 20.000. Infine, sempre parlando del Po, il prossimo 10 giugno sul lungo Po Cadorna cominceranno i previsti lavori di ristanamento conservativo, di consolidamento delle volte dei Murazzi e di risistemazione della superficie stradale nel tratto che va da Piazza Vittorio Veneto a Corso San Maurizio. Passiamo alle notizie dal web della città. Vi accennavo prima dell'evento di questa mattina in cui verrà presentata un'iniziativa collaterale alla domenica ecologica prevista per questa domenica 8 giugno. Bene, sul sito della città trovate nelle notizie in evidenza la notizia relativa appunto alla domenica ecologica. Il traffico privato nell'area della ZTL ambientale sarà vietato dalle ore 10 alle ore 19 di domenica 8 giugno. Nella pagina collegata dalla notizia trovate tutte le informazioni sull'area interessata dal blocco con la mappa e il programma delle manifestazioni che caratterizzeranno questa giornata. Inoltre è disponibile anche il testo dell'ordinanza del sindaco che fissa la domenica ecologica. Andiamo a dare un'occhiata infine alle webcam presenti in città. Partiamo dalla webcam di Piazza Palazzo di Città. Vedete, vista l'ora, l'attività in piazza è ancora abbastanza bassa, quindi una piazza abbastanza deserta per il momento. Passiamo su Villa Gualino e anche qui vedete migliora leggermente la situazione della visibilità rispetto agli ultimi giorni, ma ancora non siamo in una situazione ottimale. Bene, da parte mia non mi resta che darvi appuntamento alla seconda edizione di questo giornale che sarà oggi alle 16 e 15 e augurarvi un buon proseguimento di giornata. Grazie. 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 Grazie.